In luoghi pubblici o privati, sapere come agire in caso di emergenza è utile sia per evitare allarmismi che complicare i lavori dei soccorsi. Mercoledì 15 marzo, i vigili del fuoco di Treviso hanno tenuto presso l'auditorium PIVA di Valdobbiadene un corso sulla sicurezza rivolto alle scuole. Abbiamo parlato di sicurezza con tutti gli insegnanti del plesso qui di Valdobbiadene. In realtà abbiamo parlato di sicurezza a 360 gradi come vigili del fuoco, ad esempio come gestire una prova di emergenza, che cos'è un terremoto, qual è la differenza tra la gestione dell'emergenza durante una scorsa di terremoto e invece cos'è una prova di emergenza durante una prova di evacuazione per ad esempio incendio. Questo ci permette di fare sicurezza e di aumentare la cultura della sicurezza anche sulle scuole. Abbiamo avuto delle serate dove eravamo zeppi di persone che ci ascoltavano, magari dopo una scossa di terremoto. Abbiamo avuto anche delle serate in cui magari il terremoto era molto lontano, è solo un ricordo, per cui la serata non è andata a buon fine. In questa occasione abbiamo parlato invece di sicurezza e di evacuazione all'interno degli edifici scolastici, per cui è una cosa sentita dagli insegnanti e gli insegnanti oggi hanno risposto in maniera molto brillante.